Come tutti sapete da consigliere comunale raccolgo le segnalazioni dei cittadini per divulgarle e poi per andare ad affrontarle, a vedere di risolvere il problema nelle sedi comunali competenti. Ci sono delle segnalazioni che a qualcuno, a qualche stupido potrebbero apparire insignificanti, invece hanno un grosso valore, una grossa importanza perché incidono molto nell'ambito della vivibilità del cittadino, di ognuno di noi. Andiamo al dunque, mi trovo in Viale Magna Grecia all'altezza del Civico 52, quasi ad angolo, lo vedete con via Amalfi. Proprio un paio di settimane fa massimo è stata, vedete, riasfaltata la strada, ma la ditta ha commesso, queste ditte che lavorano alla Carlona, ha commesso un grosso errore. Guardate, proprio qui sotto all'altezza di questo tombino c'era uno sfogo per le acque e quindi c'era questo sfogo attraverso il quale l'acqua piovana, pensiamo alle piogge, ovviamente veniva incanalata qui ed evitava ovviamente di allagare tutta la strada. Voglio farvi vedere le immagini di cosa accade quando piove e cosa si crea in questa zona. Lo vedete, dalle immagini si crea un lago, un lago enorme anche con particolare riferimento poi ad altre zone accanto, ad altre aree accanto, in cui appunto una conca determina un ristagno maggiore delle acque, proprio quelle acque che non hanno modo, dicevo, di sfogare, non hanno modo di essere smaltite, le acque venivano smaltite attraverso appunto questo sistema di sfogo. I lavori si fanno alla Carlona, si asfalta, posso usare un'espressione tarantina, a vecchi, a occhio, così alla cecata, alla Carlona e poi non ci si rende conto delle cacate che si fanno perché questa, signori cari, è una cacata. Questo è un lavoro, è un rifacimento della strada, del manto stradale fatto con il danaro pubblico, fatto malissimo per cui si blocca, si tappa, si tappa lo sfogo delle acque. Ma l'abbandono di questa zona è plurimo, ci spostiamo di qualche metro in via Amalfi, anche qui un altro sfogo delle acque come doveva essere lì, vedete lo stesso schema, vedete queste aperture consentono lo sfogo delle acque. Lì è stato tappato, qui grazie a Dio non è stato tappato, ma l'amministrazione comunale non provvede, anche la stessa Amio dovrebbero ramazzare, pulire con la scopa, vedete, togliere tutti questi rifiuti, questa sporcizia, carte, fogliame e quant'altro che vanno a ostruire il libero sfogo delle acque. E mi sono spostato di appena un isolato, siamo sempre in zona via Amalfi, quasi ad angolo all'altezza di via Trieste, guardate le caditoie, le caditoie non vengono pulite, o meglio il problema è a Monte. In questa zona non so per quale motivo, caro Presidente Mancarelli, cari signori dell'Amio, qui non si pulisce, non so per quale motivo i netturbini non passino, ma questo è comune di Taranto, penso di sì, no? Ma i cittadini pagano regolarmente le tasse, penso di sì, pagano la Tari che è una delle più alte d'Italia, sì. Bene, perché non pulite? Perché abbiamo dei rifiuti che si sono incancreniti, che si sono stratificati? E questi rifiuti, perché il cittadino certamente non deve buttare a terra le carte e quant'altro, ma viva Dio, dopo 20 giorni non si pulisce, è ovvio che poi si accumula tutto e questo accumularsi di rifiuti va a ostruire, va a tappare le caditoie. Guardate qui come è ostruita, come è tappata, guardatela. È ovvio che poi quando piove, ovviamente lo scarico, lo sfogo delle acque non avviene e non avvenendo lo sfogo delle acque abbiamo gli allagamenti. Non è che gli allagamenti avvengono per opere e virtù dello Spirito Santo, avvengono perché delle cernie che hanno asfaltato la strada hanno tappato lo scolo delle acque, e dico cernie con rispetto dei pesci, perché le caditoie non vengono pulite e perché a monte l'AMIU non funziona, l'AMIU non fa il proprio dovere. Va bene? Non fa il proprio dovere, lo posso dire urlando ad alta voce, caro Presidente Mancarelli. Qui mandate le squadre a pulire, mandatele, mandatele. Per quale motivo qui non si pulisce? Ma che? Qui siamo all'altezza, vedete l'insegna via Malfi 48, lo vedete? Ma cos'è questo? Un'area di disgraziati? Di persone che vengono punite perché non si viene a pulire? Fatemi capire, questi non sono cittadini di Taranto, non hanno gli stessi diritti degli altri? E allora per cortesia, questa è una città in cui non si fa neanche il minimo, non si assicura neanche l'ordinarietà, questa è una città del terzo mondo, l'hai capito o no Melucci? L'hai capito o no Presidente Mancarelli? E per cortesia dimostratemi il contrario, io vorrei essere smentito da voi. Il problema è che la realtà è così evidente che voi dovete soltanto mettere la coda tra le gambe e se aveste un minimo di dignità chiedereste scusa ai cittadini.